hai fatto denuncia te l'ha detto il curatore parlane a tutto il mondo crea un polverone smerda una famiglia fanno un caso nazionale sai trucchi del mestiere che vecchio volpone perché lo fai anzi no perché probabilmente l'avevamo già capito prendi un messaggio inviato solo visualizzato ed inventati un ladro e anche un derubato fai tanta pressione e fai il duro e puro ci perdi due mesi per due faccine coi baci perché lo fai perché non te ne vai una vita in vacanza e ti prendi una balla senti un nodo alla panza ma è tutto il parma che suona e che canta per un calcio diverso tu è stato tempo perso e quindi non rompe i coglioni perché se non vinci sul campo sei fuori sei fuori sei fuori sei fuori sei fuori sai sei fuori grazie a tutti